Prestare la voce ad Ada non è cominciato qui. Lei stessa mi aveva chiesto di leggere questo libro già dalla prima presentazione pubblica, ma l'intimità, il raccoglimento, la solitudine anche di questa esperienza in studio è stata unica, particolare e mi ha messo più in contatto con lei perché poi quando leggi in pubblico anche chi ascolta diventa protagonista delle tue sensazioni, di quello che provi, di come leggi e invece qui in studio è come se l'avessi vista tante volte, mi è passata davanti agli occhi tante volte, oppure degli episodi di vita comune, è stato molto forte. Ci sono tanti modi per poter raccontare questo libro e questo succede sempre ai libri belli, che non hanno un'unica trama, un unico modo per essere attraversati, quindi raccontare questo libro è sempre un po' limitante rispetto a questo aspetto prismatico che questa storia ha perché uno potrebbe dire è la storia di una madre, di una figlia, di una disabilità, di una malattia, è la storia della trasformazione di uno sguardo che viaggia attraverso le positività e le negatività di un'esperienza. Potrebbe essere anche raccontato come una storia d'amore, una storia d'amore che non è solo una storia d'amore a due, ma è una storia d'amore a tre, perché la figura del marito, di quello che nel libro è chiamato Babbo, è importantissima anche nella sua alti lenarsi di sentimenti, ma io potrei anche dire che questo è un libro, soprattutto lo posso dire perché l'ho letto e riletto, che racconta una qualità di sopravvivenza agli avvenimenti della vita, come se Ada nel raccontare la sua storia, la sua storia fortemente drammatica, non si può negare, è inutile addolcire qualcosa di molto evidente nel libro fin dalla prima pagina, avesse sempre questa possibilità di un orizzonte che oltrepassa quell'esperienza, come questo spostamento, ed è proprio nel corpo che questa sopravvivenza si moltiplica, si trasforma, diventa passato, memoria, esperienza, ricordo, diventa però desiderio, diventa proiezione e diventa veramente conoscenza, è incredibile come quasi in maniera finzionale, alla fine i due corpi si assomigliano e quindi anche la storia di quella riavvicinare distanze che credo sia qualcosa che vale molto al di là poi della storia precisa e dell'esperienza precisa di Ada D'Adamo. Quando Ada mi ha telefonato a metà dicembre dell'anno scorso, con la sua voce sempre molto, come dire, un po' timida e sempre con questa impressione di scusarsi per il disturbo, e mi ha chiesto se mi poteva far piacere leggere il suo libro che stava per uscire nella prima presentazione pubblica a Roma. Io le ho detto di sì a prescindere, cioè conoscevo lei, conoscevo la storia di Daria, Daria, sua figlia si chiama come me e questo è sempre stato un legame, come dire, indiscusso, scherzoso anche tra di noi. Quindi non ho pensato quanto poteva essere bello, ben scritto, potevo immaginare di cosa parlava, ma non come era fatto. Lei mi ha mandato il testo sul computer via mail e diciamo che l'ho letto tutto di fila dovendomi interrompere per cose di lavoro, per telefonate, per cenare. L'ho finito a letto verso l'una di notte e le ho subito scritto. Tanto sapevo che aveva problemi di sonno e comunque se non voleva ascoltarmi lo ascoltava il giorno dopo, mi leggeva il giorno dopo e la prima cosa che le ho detto è come è scritto bene, come è scritto bene, che bella scrittura, che scrittura articolata, che scrittura che contiene scritture, come se lei avesse macinato non solo esperienza ma avesse macinato pensiero, come se questo libro fosse stato pensato mille volte non solo attraverso l'esperienza ma anche attraverso la conoscenza, la conoscenza di altri libri, di altre scritture di questo tipo, di film. Cioè si sente che l'arte per Ada è stato un compagno di vita e è stato un compagno durante questa esperienza di vita durata anni che ha accumulato modalità che sapeva che il rischio di questa scommessa era la scrittura. Adesso non le ho detto tutto questo, le ho solo detto come è scritto bene. Sono rimasta un po' sorpresa, ma non credo di essere stata la unica. Tutti conoscevano, per chi conosceva Ada, la sua bravura, ma questo è qualcosa che va oltre la bravura, è qualcosa che ha a che fare con la necessità e la necessità tira fuori un'energia e una forza straordinaria, eccezionale. Il fatto che questo libro sia un libro luminoso è un fatto molto importante. C'è anche un tipo di luminosità un po' buonista. Invece la luminosità del libro di Ada non non rischia mai questo elemento che per quanto necessario nel parlare di dolore a volte rischia la retorica. È come se nel libro di Ada c'è una musica tra luce e ombra, c'è una capacità pittorica tra luce e ombra. È come se nel momento in cui tu dici oddio non ce la posso fare, lo chiudo, la riga successiva ti porta da un'altra parte e ti sposta anche su un piano, per esempio, etico-politico, molto importante. Perché se fosse una storia puramente individuale il sentimento prevarrebbe e quindi in un qualche modo anche il peso dell'esperienza. Ma ogni volta che sia attraverso la cronaca, sia attraverso la risposta a delle persone, sia nominando persone che in un qualche modo hanno preso voce più di una volta rispetto alla questione della fragilità, rispetto a chi è fragile e chi è forte nella nostra società, chi è protetto e chi non è protetto, chi vale e chi non vale, quanto vale la vita, fino a che punto vale la vita. Questa dimensione etica mi viene da ripetere perché è qualcosa che io innalzo al di sopra della questione politica, è qualcosa che in un qualche modo raffredda e innalza anche la dimensione di esperienza individuale di sofferenza. E credo che la leggerezza, la luminosità e l'ombra e la questione etica siano degli elementi che rendono questo libro speciale non appunto semplicemente per la storia di una vita speciale, perché lo è stata, ma è per lo sguardo che ci permette sulla vita. Da quando è uscito il libro lo consiglio a molte persone e vengo poi a sapere che queste persone a loro volta lo consigliano. Quindi da qualche parte istintivamente mi viene sempre da consigliarlo alle persone che mi sono vicine e soprattutto lo consiglio agli uomini. Nel senso che anche questa è una cosa un po' da sfatare rispetto a questo libro, come se in un qualche modo scritto da una donna con una figlia comunque Daria, sì c'è la presenza di tante figure ma sembra una storia un po' al femminile è un libro che può piacere più alle donne, assolutamente no. Credo che sia un libro molto importante per gli uomini da leggere.